La visita del Presidente della Repubblica nel Biellese a 50 anni dall'alluvione in Valle di Mosso. Dopo la recente ondata di maltempo Mattarella dice lo Stato c'è e saprà esserci ancora. Non lesinare le risorse per la sicurezza del territorio. Simona Sala. La foto emblematica della tragica alluvione del Biellese 50 anni fa, la bambina salvata dal carabiniere. Il capo dello Stato cita quella foto e quella bambina oggi è qui a Valle Mosso e stringe la mano al Presidente. Che ricorda la straordinaria reazione del territorio, istituzioni, forze armate, volontari, una grande partecipazione popolare. Rialzarsi, ripartire, oggi come ieri, incalza il capo dello Stato. E il messaggio è per tutti coloro che vivono nuove emergenze. Veneto, Sicilia, Liguria, Trentino, assicura Mattarella. Confermo l'impegno e la vicinanza dell'intera collettività nazionale. Lo Stato c'è, deve esserci, ci sarà sempre ancora. Fondamentale è la coesione del Paese che si riconosce in un comune destino e aiuta. Scandisce molti no, Mattarella. No a polemiche artificiose, a slogan semplicistici, no a cementificazione e indiscriminato consumo dei suoli. E molti sì, perché la trasformazione del territorio dipende anche dalle nostre scelte, spiega. Serve prevenzione, tutela ambientale e idrogeologica, servono legalità e fondi. Non debbano essere risorse a vendere le finite. Vi sia una rimodulazione delle priorità di spesa. Un invito chiaro a recuperare fondi per un grande piano di sicurezza del Paese che non può, chiarisce il Capo dello Stato, ricadere sulle spalle delle popolazioni interessate. Grazie a tutti.